E allora ci alziamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Lo rinvochiamo, l'aiuto, l'intercessione della Beata Vergine Maria, siamo nella novena dell'Immacolata, perché la sua presenza ci conduca a scoprire meglio la parola di Dio che lei ha accolto e a cui ha risposto e che si compisse nella sua vita. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Vieni, oh Santo Spirito, perché possiamo ascoltare quello che il Padre ha da dirci attraverso l'ascolto della parola della Sacra Scrittura. E al di là delle tante parole, possiamo soprattutto ascoltare te e incontrare te. E adesso ascoltiamo un brano del testo del profeta Isaia. Vocazione di Isaia Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'uno all'altro dicendo, Santo, Santo, Santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte a risuono di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi, oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente, che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse, ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Poi io udì la voce del Signore che diceva, chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi, eccomi, manda a me. Il testo che abbiamo appena ascoltato ci introduce esattamente al tema di questa sera. Per il fatto che all'interno del cammino sulla profezia, la volta scorsa abbiamo sentito l'introduzione di Don Giacomo Canobbio, che ci ha aiutato a capire chi è il profeta. Ecco, questa sera invece ci inoltriamo in una figura particolare di profeta, ed è la figura di Isaia. Ce ne parla il professor Pier Maria Feltri, che è professore di lettere, ma è soprattutto esperto della storia dell'ebraismo e della storia della Shoah. Però ecco che accanto a queste particolarità, quindi a queste competenze, si è lasciato innamorare della Sacra Scrittura, grazie anche al nostro già vescovo di Brescia, vescovo Luciano, che è stato il suo professore. Lo ha fatto innamorare della Sacra Scrittura e è diventato per lui davvero una, ecco potremmo parlare proprio di passione. Io l'ho sentito oggi, voi l'avete già sentito altre volte, mi è piaciuto tanto, sono molto contento che sia qui. La ringrazio professore e le do subito la parola. Mi aiuto. No, no, tutto sotto controllo. Allora grazie, chiedo scusa, mi chiamo Francesco Maria, non Pier Maria, ma questo è un dettaglio rilevante. Resta tutto vero il resto, resta vero che sono un insegnante, l'unico insegnante felice sul territorio nazionale. E seconda cosa che il mio campo di studi specifico è la storia della Shoah. Preciso subito che la ricostruzione che ha fatto il vostro parroco è correttissima. Io cominciai studiando Sacra Scrittura con l'allora Don Luciano Monari. Dopodiché, ovviamente, come biblista non si ha una grande carriera, grandi possibilità di studio, di guadagno, di lavoro, soprattutto se sei laico. E allora sono laureato in storia e però l'interesse per la scrittura ha generato in me l'interesse per lo studio dell'ebraismo e in particolare mi sono specializzato in questo campo doloroso della Shoah. Ma al di là di questo, oggi che cosa affrontiamo? Preciso subito che l'argomento che mi è stato richiesto non è, sembra una sciocchezza ma non l'è per niente, l'argomento non è il profeta Isaia ma il libro di Isaia. Guardate che non è un dettaglio da poco. Se mi avessero chiesto di parlare del profeta Isaia, io avrei dovuto fare riferimento, utilizzare solo la prima parte del libro di Isaia. Mentre uno dei contributi, dei risultati più duraturi degli studi storico-critici del testo biblico è la scoperta del fatto che il libro di Isaia è il più lungo dell'Antico Testamento ma questa lunghezza è frutto del fatto che sono stati uniti agli oracoli dell'Isaia storico i testi di altri due profetti di cui ovviamente ignoriamo il nome. Per cui avete un primo Isaia, un secondo Isaia, un terzo Isaia. Tra il primo Isaia e il secondo Isaia passa circa un secolo e mezzo, tra il secondo Isaia e il terzo Isaia molto meno, diciamo, una trentina d'anni. Il libro di Isaia arrivo a dire che è forse il più importante per il libro dell'Antico Testamento, per la comunità cristiana. E' il libro natalizio per eccellenza, il libro di Isaia. Numerosi degli oracoli, delle promesse, riguardano questa in realtà indefinita figura del Messia che poi naturalmente per la comunità cristiana va il volto, il nome di Gesù di Nazareth. Ma poi il secondo Isaia dà un altro contributo, forse ancora più importante. Forse ancora più importante perché presenta quattro testi chiamati i canti del servo sofferente del Signore. Sono i testi che vengono letti la Domenica delle Palme e ancora più il Venerdì Santo e sono testi che presentano una misteriosa figura di profeta sofferente che però, nonostante questa sofferenza, come vedremo fra un quarto d'ora, è comunque amato e benedetto da Dio. Questa è la figura che in qualche modo offrì la lente di interpretazione dello scandalo della croce alla prima comunità cristiana. Forse, come vedremo, è la lente alla luce della quale lo stesso Gesù di Nazareth ha interpretato la prospettiva della sua morte violenta. Infine abbiamo un terzo testo, un terzo profeta di cui ovviamente non conosciamo il nome perché come nel caso del secondo Isaia i suoi oracoli sono stati attribuiti all'Isaia storico, quindi il nome è scomparso, che è interessante perché ci offre la prospettiva di alcune problematiche che credo siano estremamente singolari, interessanti, soprattutto interessanti perché ci obbligano a ridimensionare alcuni luoghi comuni che talvolta abbiamo sull'Antico Testamento. Preciso subito una cosa, e perdonatemi se sono antipatico, i termini che utilizzerò saranno sempre scritture ebraiche, Antico Testamento, mai Vecchio Testamento. Le scarpe vecchie le butto, sono bucate, inutili, non servono a niente. Le cose antiche sono cose pregiate, raffinate, certo non sono quelle del mio tempo. Per un cristiano l'Antico Testamento è qualcosa che trova il suo compimento nel Nuovo, ma è un Primo Testamento, mentre c'è un Secondo Testamento, una prima storia di Dio con l'uomo, mentre ce n'è una seconda. Per i cristiani questa è la rivelazione definitiva e piena del volto di Dio, ma una cosa antica è una cosa in cui sento che ci sono le mie radici. E nel mio caso, particolarmente, sento davvero questo legale particolare con, mi hanno detto che gli devo dare una pacca ogni tanto, che sento davvero questa relazione del tutto speciale, forse ve ne accorgerete. Dicevamo che il primo e il secondo Isaia sono separati da circa 150 anni e il secondo Isaia, questo blocco testuale, è stato individuato con relativa facilità dagli studiosi, ormai un paio di secoli fa, per il semplice fatto che improvvisamente compare sulla scena, viene menzionato Ciro, re dei Persiani, e chiaramente non ci azzecca assolutamente nulla con l'epoca del primo Isaia. Il primo Isaia invece scrive intorno, inizia la sua attività, tra il 740 e il 700 circa, mentre l'altro opera intorno al 540, ovviamente avanti Cristo. Avete già affrontato in una serie di incontri precedenti la figura del profeta, ma nello stesso tempo abbiamo già visto, anche parlando, leggendo il capitolo 6 del testo del nostro profeta, chi è un profeta, chi è un nabi. Il profeta è una figura molto particolare. Intanto possiamo dire che il profetismo biblico è probabilmente l'esperienza religiosa biblica più originale, in assoluto quella che non ha equivalenti nella cultura medio orientale del suo tempo. Sapete che, ad esempio, posso istituire delle relazioni, anche se poi Israele piega queste realtà alla sua fede, posso istituire delle precisi collegamenti tra il poemi della creazione babilonese e il racconto della Genesi. A maggior ragione il racconto del diluvio è chiaramente copiato da uno o più testi mesopotamici. Posso istituire dei paralleli tra la poesia d'amore egiziana e il cantico dei cantici. Alcuni salmi sono influenzati dalla spiritualità egiziana o dalla religiosità cananea. Per il profetismo biblico tutti i tentativi che sono stati effettuati non funzionano. Non funzionano perché questi profeti hanno una originalità di tono, di sensibilità, di forza, un'originalità di pensiero e di proposta teologica che davvero fa impallidire qualunque parallelismo si abbia provato, sia stato provato ad affrontare, a proporre. Chi è quindi un profeta? Un profeta è, come abbiamo visto nella lettura che è stata presentata, che ha aperto questa nostra chiacchierata serale, un profeta è una persona, una persona comune, una persona normale, uno di noi. Purtroppo di molte di queste persone non sappiamo quasi niente dal punto di vista biografico. Possiamo ipotizzare che Isaia sia di Gerusalemme, possiamo ipotizzare che Isaia sia di alto livello sociale, lo vediamo a volte a diretto contatto e colloquio col re, possiamo addirittura anche ipotizzare che sia un sacerdote. E questo perché la vocazione del profeta avviene nel Tempio, e questo non è da tutti. Geremia, Amos o altri non hanno questa dimestichezza, questa familiarità con il Tempio. E che cos'è la vocazione di un profeta? Ecco, questo è il momento cruciale della sua esperienza. Un profeta è una persona comune, è uno di noi, ma improvvisamente ha un'esperienza eccezionale del divino, che gli rompe nella sua vita, ha un'esperienza potente, che in qualche modo lo turba. Geremia dirà che a partire da quel momento ha come un fuoco divorante nelle viscere, e quindi non riesce più a condurre una vita normale. Amos dice che sente come se una voce gli ordinasse dall'esterno di fare o di dire. E qualcosa che quindi ti muove. Ecco quindi un concetto importante. Il profeta ha un'esperienza del divino veramente fortissima, una esperienza eccezionale, ma non la tiene per sé. In questo senso non è un mistico che scrive nel suo diario le sue visioni, ad esempio. Il profeta vede, entra in contatto, ascolta comunque un contatto forte con Dio, ma poi questo contatto ha uno scopo. Lo scopo è quello di una missione, di essere inviato. Il concetto importante, soprattutto che dobbiamo sempre avere presente, è che un profeta si distingue da un teologo, si distingue in epoca pitardiva da un rabbi, da un maestro, perché il maestro, il rabbi, studia la scrittura, la conosce, la interpreta, ma si sente inferiore alla scrittura. Così come un teologo, un filosofo, è una figura geniale che in qualche modo dalla sua razionalità elabora una serie di riflessioni su Dio, sulla vita, sul mondo. Il profeta non attribuisce a se stesso nessun merito. Il profeta inizia sempre i suoi discorsi dicendo così dice il Signore. Nell'esempio che mi capita spesso di fare, il profeta potreste paragonarlo a questo microfono, a questo strumento di amplificazione, che oltretutto ogni tanto fa le bizze, perché ogni tanto i profeti si ribellano, Geremia ogni tanto sa rabbia. Geremia ogni tanto sa rabbia, mi sono stufato, perché mi fai sempre solo annunciare violenza, terrore, punizioni, e la gente mi odia, la gente mi disprezza, la gente vorrebbe ogni tanto che gli raccontassi qualcosa di più simpatico. Comunque al di là di tutto questo, il profeta assomiglia a questo impianto nella misura in cui, so che mi direte che sono megalomane, io sono in questo momento Dio che sta rivolgendo la sua parola a voi. Se non ci fosse questo strumento, io non riuscirei a farmi ascoltare. Se non ci fossero Isaia, Amos, Geremia, poi sapete che il discorso può andare molto avanti, Giovanni il battezzatore, da un certo punto di vista Gesù di Nazareth, da un altro ancora diverso punto di vista il profeta Muhammad, Maometto, questi sono figure che si presentano come gli altoparlanti grazie ai quali Dio comunica un messaggio all'umanità, a Israele o all'umanità. Ovviamente di fronte a un profeta si può poi assumere atteggiamenti più disparati, atteggiamento di fede, atteggiamento di ascolto, atteggiamento di rifiuto, e questo naturalmente rappresenta per certi versi anche il dramma dell'esperienza religiosa. Dove siamo nel compitolo che abbiamo letto o sentito leggere cinque minuti fa? Dicevo siamo nel Tempio. Qui dovete ricordare una cosa importante perché tanto su questo concetto torno fra un secondo. Il Tempio non è un luogo qualsiasi. Tempio non è una chiesa, non è una sinagoga, Tempio non è intercambiabile. Tra, perdonate, la parrocchia di Leno e la parrocchia di Casamia, in ultima analisi non c'è nessuna differenza. Le stesse preghiere, gli stessi riti che si celebrano a Leno possono essere celebrati a Brescia, a Milano, a Modena. Tempio no. Il Tempio, tra l'altro, non è neanche nel senso stretto del termine fa un minuto mi spiego meglio il Tempio non è neanche un luogo di culto. La Chiesa sì, la sinagoga sì. Noi entriamo in questi luoghi e preghiamo e se siamo cristiani anche celebriamo l'Eucaristia. Ma attenzione perché invece nel caso del Tempio il rito non avviene all'interno, avviene fuori, nel cortile, nel sagrato, diremmo noi, nell'atrio del Tempio. Il Tempio in sé è la casa di Dio. Quindi ci deve essere un Tempio solo, non ce ne possono essere mille, di Chiese ce ne possono essere centinaia e centinaia e tutte in qualche modo possono avere la stessa funzione. Di Templi no, ci può essere solo quello di Gerusalemme e i sacrifici che sono il rito per eccellenza che si celebra a Gerusalemme sono celebrati fuori dal Tempio mentre il Tempio per eccellenza è il luogo della presenza divina. Da questo punto di vista attenzione perché giusto chi ha un briciolo di arrivo a chiamarla dimestichezza con l'Antico Testamento a volte coglie alcune sfumature importantissime del Secondo Testamento perché esagero un attimo ma appena appena badate che il brano più importante il passo più importante di tutta di tutti i Vangeli sono quel versetto apparentemente minimale che spesso passa scivola via perché ci sembrano che le cose siano più importanti ancora in cui si dice che il velo del Tempio si squarciò badate che quello è nel linguaggio dei primi cristiani un testo fondamentale perché vuol dire che la presenza di Dio nel mondo non è più nel Tempio di Gerusalemme ovviamente è sul crocifisso capite che è un abisso è un cambiamento è il vero scandalo o se volete il vero punto di divergenza rispetto alla mentalità giudaica del tempo è il vero punto in cui un ebreo non può più seguire il Vangelo e a un certo punto dice beh fino qua questo rabbì può anche aver detto delle cose interessanti a questo punto o si va di qua o si va di là prendere o lasciare quindi Isaia è nel Tempio è a contatto diretto con la presenza di Dio ma di solito questa presenza di Dio è invisibile è una questione di fiducia pensare che lì è presente Dio eppure questo Dio per lui improvvisamente si fa visibile e si fa visibile nel momento in cui è accompagnato da una serie di esseri perdonate il termine che sto per dire non è esagerato e sballato alieni cosa vuol dire alieno? è qualcosa che non mi aspetta è qualcosa che esce da ciò che sperimento ordinariamente lasciate stare che di solito noi pensiamo agli extraterrestri con tre teste non ci interessa questo ma questa entità divina che esplode davanti a me è accompagnato da esseri fiammeggianti fiammeggianti qui andrebbe davvero tradotto alla lettera se guardate le note di tutte le Bibbie dicono questi sono esseri che bruciano sono esseri fiammeggianti serafino a noi dall'idea di un putto rinascimentale non rende l'idea dovete pensare che queste sono virgolette le guardie del corpo di Dio e quindi come Dio è il diverso per eccellenza ci tornerò sopra su un attimo tutto ciò che fa parte del mondo divino non ha niente a che fare in questo senso è alieno con il mondo umano e che Dio sia il diverso lo cogliamo da questa proclamazione solenne che fanno i esseri fiammeggianti della sua corte il Signore degli Eserciti è il tre volte santo e qui urge una precisazione perché il termine santo non significa buono vuol dire separato diverso altro con la A maiuscola forse si riesce a capire meglio in italiano il significato del termine santo se lo rendiamo con una parola che in italiano ci assomiglia moltissimo sacro perché in termine sacro abbiamo il contrario c'è il sacro e il profano c'è il profano e l'abitudinario l'ordinario cioè ciò che facciamo tutti i giorni ma ecco che qui posso recuperare il termine santo per spiegarmi vi ricordate che nel decalogo si dice che dobbiamo santificare il giorno di sabato il giorno di sabato e in cosa vuol dire diversificarlo vuol dire che per sei giorni lavoriamo settimo no il settimo stiamo fermi perché per sei giorni grazie al lavoro l'uomo esercita il suo diritto dovere di sottomettere il creato grazie al lavoro l'uomo prosegue la creazione di Dio e esercita quel mandato di essere il signore del creato che attenzione dobbiamo esercitare con molta attenzione e intelligenza perché siamo anche i custodi del creato e non solo i dominatori ecco che allora dobbiamo ricordarci una volta alla settimana diversificando la giornata che non siamo i signori assoluti del creato che il signore del creato è qualcun altro con la maiuscola e quindi in questo giorno diverso noi ci dobbiamo fermare dalla nostra volontà di potenza o dalla nostra sete di onnipotenza per riconoscere che tutto ciò che abbiamo in realtà è dono è dono del signore vuol dire allora diversificare quindi in sostanza quello che proclamano i fiammeggianti è che Dio è trascendente che Dio è al di là di tutto ciò che tocchiamo che Dio è Dio è il modo per dire che Dio è al di là di tutto ciò che c'è familiare capite che da questo punto di vista è importantissimo anche nel decalogo il precetto che vieta di fare immagini di Dio perché la prima tentazione che ci viene di fare immagini di Dio è di raffigurarlo in forma umana ma automaticamente storicamente parlando si è finiti per raffigurarlo maschio e invece né il maschio né la femmina Zeus Atena questi sono un Dio e una Dea ma siamo completamente fuori dall'orizzonte culturale ebraico l'orizzonte culturale ebraico vieta di raffigurare Dio proprio perché Dio è santo eppure questo santo dei santi questo santissimo chiama una persona chiama Isaia chiama Amos chiama Geremia e li fa suoi messaggeri li investe di un ruolo li investe di un compito questo compito in me spesso è decisamente sgradevole per un istante anche se fra cinque minuti virgolette mi smentirò cioè tornerò su un binario più convenzionale per un minuto dimentichiamo l'immagine che abbiamo del profeta come annunciatore della salvezza come annunciatore di Cristo perché questa è una realtà assolutamente vera questa è una dimensione assolutamente legittima e forte della storia del profetismo biblico ma è per certi versi minoritaria in quanto la stragrande maggioranza degli oracoli sono oracoli di giudizio sono oracoli che annunciano una punizione sono oracoli di minaccia ma subito anticipiamo un altro concetto importante e cioè il fatto che il profeta è una sentinella il profeta è una sirena se preferite non nel senso che a questo termine dallo di sé è una sirena proprio come un avvertimento di pericolo compito del profeta è quello di avvisare di avvisare che ad esempio tu stai andando a una velocità troppo elevata in autostrada è come una spia che si accende nel cruscotto della mia macchina quando tornerò a casa questa sera e mi dice attento perché se continui su questa strada stai aumentando a dismisura i rischi di un incidente mortale sappi che hai superato il limite della velocità sappi che stai per addormentarti sappi che stai tenendo un comportamento sbagliato a questo punto spetta a me seguire questo consiglio oppure continuare sulla mia strada e andare nel fosso e andare contro un'altra macchina e provocare un grave incidente il compito del profeta è quello di avvertire Israele perché sapete che la teologia di Israele nell'Antico Testamento è tutta basata su tre concetti fondamentali il primo concetto è il beneficio che Dio ha dato a Israele secondo alcune tradizioni in verità in Isaia questo tema ricorre abbastanza poco è l'esodo è la liberazione dall'Egitto è il dono della terra promessa il dono il beneficio principale che Dio ha fatto agli uomini a questo punto segue come secondo pilastro l'idea che Israele se vuole conservare questo beneficio deve osservare la legge divina se invece non la osserva terzo concetto da solo si scava la fossa riceverà la maledizione cioè una serie di disgrazie la cui più grave naturalmente sarà l'esilio la perdita della terra promessa attenzione allora perché questo è un concetto molto difficile ma molto importante Isaia non è Cassandra è una figura della tradizione greca che prevede infallibilmente il futuro perché il futuro è già scritto e Cassandra ha la maledizione che nessuno le crede nessuno le crede e quindi Cassandra si dispera di questo suo dono di preveggente che nessuno in qualche modo coglie ma la cosa più importante è che Cassandra non può assolutamente fare nulla perché il futuro è già scritto e nemmeno gli dèi possono salvare Troia dalla distruzione perché il fatto ha deciso che dopo dieci anni Troia sarà distrutta capite che allora la figura di Ettore ha qualcosa di tragico ha qualcosa di tragico perché combatte con tutto se stesso e sacrifica se stesso nel duello con Achille per un obiettivo che è assolutamente irrealizzabile la salvezza della sua patria bene la mentalità biblica non conosce questo tipo di mentalità tragica non c'è nella Bibbia il tragico non c'è perché non è scritto niente non c'è nessun destino già scritto grazie ai profeti perché il profeta è questa sirena è questo avvertimento è questa sfia sul mio cruscotto che mi dice attento non è già scritto che io questa sera avrò un incidente mortale non c'è scritto da nessuna parte c'è scritto al contrario che se io rallento uso una guida più prudente posso evitare quell'incidente pericoloso e da questo punto di vista il soggetto profetico per eccellenza quello che in qualche modo non a caso una novella didattica quella di cui sto per parlarvi è quella di Giona Giona è l'apologia della profezia Giona è l'incarnazione stessa del funzionamento del profettismo biblico innanzitutto dicevamo è un profeta che a volte fa le bizze Dio gli dice di andare a Ninive e dice fossi matto Ninive ammazzano la gente vado dall'altra parte del Mediterraneo il più lontano possibile Dio poi se lo va a riprendere questo Giona fra un minuto vedremo che l'unico israelita di tutto il libro ci fa una figura da meschino da imbecille da idiota totale mentre tutti i pagani che compaiono sulla scena sono saggi e sono ricchissimi di una pietas che a Giona manca ma soprattutto Giona quando va a Ninive comincia a predicare e questo Giona addirittura pronuncia una sentenza non dice neanche convertitevi oppure Dio se non vi convertirete no non usa un periodo ipotetico dice 40 giorni Ninive sarà distrutta punto rassegnatevi al che il re di Ninive dice proviamo non si sa mai ed è il primo che dà l'esempio di penitenza gli altri Niniviti si comportano nello stesso modo mostrano veri sinceri segni di conversione e Dio cambia idea Dio si impietosisce e Giona si arrabbia perché ci ha fatto una brutta figura e Giona si arrabbia perché dice mi hai fatto fare la figura dell'imbecille e infatti come sapete il termine Giona vuol dire colomba e colomba non è un complimento perché sta a indicare che uno è un cervellino piccolo piccolo è l'equivalente del nostro cervello da gallina quindi Giona è l'unico ebreo ed è un idiota vedete questo senso anche di umorismo profondo che caratterizza questo libretto delizioso che è un inno alla misericordia di Dio verso tutti gli uomini e quindi Isaia deve annunciare la punizione e comincia a fare questo suo delicato antipatico mestiere questa sua antipatica incombenza questa sua antipatica incombenza che farà impazzire letteralmente Geremia una generazione dopo che dice mi sono stufato mi hai imbrogliato mi hai detto si fai il profeta dai vai fare il profeta se parlerai in nome mio mi sono tutto gasato e poi mi fai dire solo alla gente che Dio sta per punirli che Dio sta per deportarli basta non voglio far più il profeta e poi dopo si rassegna ma un fuoco divorante è dentro di me e devo parlare ed ecco che allora il nostro Isaia comincia la sua attività di profeta e è un grande poeta il nostro Isaia sa veramente parlare sa veramente organizzare un testo un oracolo e uno dei primi oracoli che possiamo ipotizzare Isaia abbia pronunciato è il cosiddetto canto della vigna possiamo ipotizzare che Isaia qui stia parlando in autunno grande momento di festa il raccolto è stato abbondante la vendemmia è stata splendida e allora nel clima festoso chi da una parte chi dall'altra mentre si sta pigiando l'uva si intonano delle stornellate si intonano dei canti i canti che a volte possono parlare d'amore possono essere di tutti i tipi l'importante è che siano canti festosi ed ecco che allora anch'io voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle l'aveva dissodata sgombrata dai sassi vi aveva piantato viti pregiati in mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino guardate vi voglio raccontare una bella storia la storia di una vigna fantastica di Franciacorta una cosa magnifica che il nostro produttore manager ha fatto di tutto ha preso il colle migliore quello meglio soleggiato che così viene una bella uva forte viene un addirittura vicino nella prossimità della vigna ci mettiamo mancuntino così così la uva non si rovina nel trasporto è a chilometri zero è una filiera corta facciamo una cosa fantastica e nonostante tutti questi benefici nonostante tutti questi doni nonostante tutti questi sforzi del vignaiolo del contadino ecco che il contadino aspettò che producesse uva ma la vigna produsse acini acerbi una schifezza allora ditemi un po' abitanti di Gerusalemme uomini di Giuda siate voi giudici fra me e la mia vigna delusione assoluta la vigna ha prodotto qualcosa di immangiabile e tantomeno di utilizzabile per fare un buon vino allora Isaia che è in questo caso estremamente abile vuole spingere gli abitanti di Gerusalemme a dare un giudizio potevo fare qualcosa di più no ho lavorato male no allora dite voi che cosa potevo fare di più e come dovrò comportarmi implicitamente è giusto se adesso questa vigna ingrata la distruggo certo fai pure comincia è troppo tardi già quando hai cominci perché è un'uva che non vale niente è una vigna che non vale niente cosa dovevo fare ancora alla mia vigna perché attendevo che producesse uva buona e invece prodotto acini acerbi e allora visto che me l'avete detto voi voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna toglierò la sua siepe si trasfermerà in un pascolo demolirò il suo muro di cinta verrà calpestata da tutti la venderò un deserto non sarà potata né vangata vi cresceranno rovi e spine bene fai bene è perfetto non c'è nessuna obiezione ben gli sta questa vigna ingrata ma notate che mentre il pubblico in qualche modo ha già attirato sulla vigna la maledizione la punizione che questa vigna merita ecco che dall'allegoria si passa alla spiegazione in un versetto in un verso in quanto tutte le azioni descritte fino adesso sono azioni che un contadino poteva compiere poteva demolire la siepe poteva demolire il tino e invece adesso si dice alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia capite che una frase di questo tipo nessun contadino può pronunciarla questo è il verso chiave questo è il verso di passaggio questo è il verso ponte dal contadino si passa alla spiegazione dell'allegoria per cui ebbene la vigna del signore degli eserciti è la casa di israele gli abitanti di giuda sono la sua piantagione preferita che cosa mi aspettavo mi aspettavo giustizia ed ecco spargimento di sangue il signore si aspettava rettitudine ed ecco grida di oppressi vedete che israele ha completamente deluso le aspettative di dio un dio che l'aveva ricoperto di favori e che israele al contrario non ha corrisposto minimamente ma questa conclusione ci aiuta anche a capire un altro cosa un altro concetto importante e cioè quella che è è la assoluta priorità nella religiosità dei profeti nella religiosità dei profeti il comportamento morale il comportamento verso il prossimo ha la priorità assoluta attenzione perché ovviamente c'è a fianco di tutto questo anche il rifiuto categorico di ogni idolatria questo è certo e questo vale per alcuni profeti ad esempio per Osea per Ezechiele in Isaia questo tema è secondario in Geremia ancora i due temi coesistono e quindi laddove il tema dell'idolatria non è prioritario e comunque anche quando occupa un posto centrale il tema centrale del messaggio profetico a livello morale religioso è l'etica il comportamento verso il prossimo comportamento verso il prossimo che nei profeti ha sempre una priorità assoluta rispetto ad ogni altra forma di religiosità e guardate che la cosa è strana in Isaia non è strana in Geremia non è più particolare in Isaia perché Isaia è un uomo del tempio Isaia è probabilmente un sacerdote non ci aspetteremmo in Isaia parole dure nei confronti della partecipazione ai riti del tempio in Geremia ci meravigliano di meno in Isaia un attimo sì e forse proprio per questo Isaia ha le parole più dure ascoltate la parola del Signore capi di Sodoma prestato orecchio all'insegnamento del nostro Dio popolo di Gomorra perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero dice il Signore osservate questa formula introduttiva ascoltate la parola del Signore è Dio che parla non Isaia e poi a metà subito dice dice il Signore arriva a dire questa origine divina delle parole io sono solo il megafono di Dio sappiate che non sono io Isaia ad essere schifato di quello che vedo è Dio stesso sono sazio degli olocausti di Montoni del grasso di Pingui Vitelli il sangue di Tori e gli Agnelli di Capri io non lo gradisco quando venite a presentarvi a me chi chiede a voi questo che veniate a calpestare i miei cortili smettetela di presentare offerte inutili l'incenso per me è un abominio le vostre feste per la luna nuova per i Shabbat per le assemblee sacre io non posso sopportare delitto e solennità guardate che quello che il nostro Isaia critica non è il Tempio in sé non è che ce l'ha con il Tempio ce l'ha con il fatto che chi va al Tempio non si rende conto della totale incoerenza di essere un assassino di essere di compiere delitti di compiere ingiustizie e violenze di ogni tipo di mancare di solidarietà assoluta verso il prossimo e poi come se niente fosse come se a Dio bastasse essere riempito di olocausti o di sacrifici ecco che si recca al Tempio subito dopo aggiunge quando stendete le mani io distolgo gli occhi da voi se moltiplicate le preghiere io non vi ascolto perché perché le vostre mani grondano sangue non è che ce l'ho con le vostre preghiere e se lo riteniamo dei gesti importanti di onore nei miei confronti accetto l'ho istituito io il rituale del Tempio ma quello che è inaccettabile è questa mescolanza di delitto e solennità che cosa dovete fare dovete lavarvi purificarvi allontanare dai miei occhi il male dalle vostre azioni cessate di fare il male imparate a fare il bene cercate la giustizia se volete degli esempi soccorrete l'oppresso rendete giustizia all'orfano difendete la causa della vedova e vedete che la priorità dell'etica è proclamata in modo assoluto ecco che quindi abbiamo su Gerusalemme sul popolo di Israele sul regno di Giuda una serie di giudizi veramente molto molto duri sembra che tutto debba essere condannato al fallimento allo scacco alla maledizione e con questi probabilmente il nostro Isaia sia pure a malincuore ci mette anche la monarchia perché la monarchia in Israele non è mai stata molto amata dei re si dà in linea di principio un giudizio molto negativo di Davide si dice che è un grande re vero ma soprattutto un grande peccatore che ha commesso adulterio con Bezzabea e ha fatto ammazzare suo marito di Salomone si dice che ha fatto con le sue mille donne entrare l'idolatria in Israele degli altri si dice di uno che è un assassino dell'altro che è un idolatra dell'altro che è un poco di buono quindi la tradizione biblica nei confronti dei re è spesso molto molto dura quindi possiamo aspettarci che il nostro Isaia sia veramente durissimo anche nei confronti della monarchia e sostanzialmente che tutto finirà e tutta la storia di Israele o di Giuda con Dio ormai arrivato al capolinea eppure proprio nel momento in cui pronuncia queste sue parole di fuoco quelle che abbiamo sentito nel canto della vigna nel capitolo iniziale che ho letto un minuto fa o in tanti altri oracoli proprio nel momento in cui pronuncia queste parole di fuoco il nostro Isaia lascia sempre aperta una speranza e in particolare ci ricorda che quella monarchia che ha fallito completamente quella monarchia che ormai si è screditata che ormai è bruciata da tanti punti di vista dovrà potrà per iniziativa divina rinascere il tronco è quello di Iesse padre di Davide il tronco è quello di Iesse padre di Davide ma probabilmente sarà tagliato sarà buttato nel fuoco ormai è compromesso ciò nonostante dal tronco nascerà un germoglio nascerà un germoglio un virgulto dalle sue radici su di lui si poserà la potenza del Signore e sarà spirito di sapienza di intelligenza di consiglio di fortezza di conoscenza di timore del Signore finalmente un re come si deve finalmente un re che avvale con le caratteristiche che deve avere il re il re che deve non giudicare secondo le apparenze non prendere le decisioni per sentito dire figuriamoci per corruzione ma giudicherà con giustizia i miseri e invece di prendere tangenti o bustarelle o essere corrotto dai potenti giudicherà il violento con la verga la giustizia sarà la fascia dei suoi lombi la fedeltà cintura dei suoi fianchi vedete che allora in qualche modo è la storia di Israele che rinasce rinasce dalle radici però di un virgulto viene lasciato nel vago ma da questa diciamo impostazione da questa affermazione comincerà a maturare nel corso dei secoli quella che chiamiamo la speranza messianica chi è il messia il messia sapete che è il re ogni re di Israele è un messia perché il termine vuol dire consacrato mediante un rituale il rituale della unzione è il rituale che poi sarà ripreso anche durante l'incoronazione di tanti re nel medioevo è un rituale che naturalmente viene ripreso anche in vari sacramenti della chiesa l'idea è quella che l'olio in qualche modo simbolo di vita nel momento in cui pervade e scende sul capo è come qualcosa che ti entra dentro e grazie a questo olio simbolo di vita appunto Dio ti darà tutte le caratteristiche che ti servono per essere un vero cristiano per essere un bravo sovrano all'altezza del compito per cui Dio ti ha scelto ecco che questo messia mentre tutti gli altri re sono stati assolutamente incapaci di svolgere la loro funzione questo messia finalmente con la M maiuscola ricomincerà la storia da zero sarà portatore di una nuova inedita salvezza divina che investirà il creato intero perché dopo aver descritto il ruolo positivo che questo figura questo cermoglio del tronco di esse dopo aver descritto questa nuova società che grazie a lui prenderà vita la felicità la giustizia l'assenza di violenza si diffonderà per tutto il creato tant'è che avremo una specie di grandiosa metamorfosi del creato il lupo dimoverà insieme all'agnello il leopardo si sdraierà con il capretto il vitello il leoncino pascoleranno insieme un piccolo fanciullo li guiderà la mucca l'orsa pascoleranno insieme i loro piccoli si sdraieranno insieme il leone si ciperà di paglia come il bue il lattante si trastullerà sulla buca della vipera il bambino metterà la mano nel covo del serpente verinoso non agiranno più iniquamente non saccheggeranno più il mio santo monte la conoscenza del signore riempirà la terra come le acque ricordano il mare capite che questo è un testo che ha avuto effetti di lunga durata formidabile fino a Ever Dream di King quando King pronuncia il suo io un sogno e comincia a immaginare come saranno gli Stati Uniti del futuro in cui il leone bianco e il capretto nero saranno si prenderanno per mano i loro piccoli i loro bambini giocheranno insieme cita liberamente Isaia in un mondo americano molto più intriso di Bibbia di quello che non sia la realtà italiana nostra così come dovete pensare ovviamente alle nostre tradizioni natalizie che insistono sul fatto che grazie alla nascita del figlio di Davide cioè Gesù di Nazareth inizia questa nuova creazione nel medesimo tempo vi ricordo una cosa importante cioè che il termine Messia che in qualche modo affonda in Isaia le sue radici il termine il concetto di Messia hanno un che di potente di regale quindi anche di militare e quindi al tempo di Gesù avevano una sfumatura politica molto molto forte e per questo motivo come sapete Gesù non usa per sé questo termine glielo attribuiscono gli altri ma lui di suo non dice una volta sola io sono il Messia preferisce usare altre espressioni più generiche tipo il figlio dell'uomo figlio dell'uomo che viene dal profeta Daniele ed è una figura decisamente meno marcatamente politica o militare ecco che abbiamo quindi un Isaia che intreccia minaccia e speranza bene il tema invece della speranza è di gran lunga quello prevalente nel secondo Isaia secondo Isaia di cui non voglio stancarvi troppo ricordiamo solo due dati importanti primo dato importante coordinata cronologica siamo nel 540 circa si capisce che la dominazione dei babilonesi è gli sgoccioli nell'anno 586 cioè circa 40 anni prima il re di babilonia Nabucodonosor ha distrutto Gerusalemme ha distrutto eras al suolo il tempio non c'è rimasto niente e la elite culturale politica di Giuda è stata deportata a babilonia non dovete pensare a una deportazione di massa non dovete pensare a tutto il popolo deportato i poveri contadini restano lì e non danno fastidio a nessuno senza guide per Israele tra l'altro il pericolo serio a babilonia fu l'assimilazione perché la mentalità assira e poi babilonese la mentalità mesopotamica in generale era una mentalità tale per cui le guerre non erano combattute solo da uomini su un campo di battaglia un po' come nell'Iliade intervengono anche gli dèi e quindi se io vinco è perché in realtà il mio Dio è superiore al tuo perché il mio Dio in singolar tenzone in duello ha sconfitto e forse ucciso il tuo quindi la tentazione forte di dire gli dèi degli assiri gli dèi dei babilonesi sono superiore al signore ed ecco qui il primo concetto veramente importante intorno all'anno 540 sta per crollare l'impero di Nabucodonosor ma di Ciro il sofrano persiano che sta per dare il colpo di grazia ai babilonesi il nostro secondo Eseia dice guardate che non è per merito di Ciro che i babilonesi sono stati sconfitti o stanno per essere sconfitti così come non è per merito di Marduk Dio di Babilonia se Gerusalemme è stata distrutta la storia è una gigantesca scacchiera ma a giocare a scacchi c'è una persona sola a te sembra che il re Nabucodonosor che la regina Ciro siano potentissimi in realtà sono tutti manovrati da un unico giocatore di scacchi che è il Signore il Dio degli eserciti ed ecco che allora abbiamo una serie di oracoli che ti testimoniano un salto teologico fondamentale un salto teologico fondamentale in direzione del pieno pienamente maturo monoteismo mi spiego a lungo gli israeliti che non sono dei filosofi non si sono posti il problema dell'esistenza o meno degli altri dei il concetto centrale era che Israele doveva adorare solo il Signore ma nessuno perché gli israeliti non sono degli speculativi ha mai pensato che Baal allora non esiste semplicemente io come israelita non devo adorare Baal o metterlo a fianco del Signore Dio è un Dio geloso e pensate da questo punto di vista appunto al fatto che una moglie gelosa si preoccupa delle scappatelle del marito se ci sono tante altre belle donne in circolazione se lui è l'unica persona su un'isola deserta con suo marito non ha motivo di essere gelosa bene faccio questo esempio anche perché Eusea usa questa metafora della prostituzione e del darsi ad altri soggetti ecco che allora in questo testo che chiamiamo secondo Isaia questo profeta anonimo ha una serie di espressioni via via sempre più forti dice prima di me non fu formato alcun Dio né dopo ce ne sarà io io sono il Signore fuori di me non c'è alcun Salvatore io ho annunciato io ho salvato io mi sono fatto sentire e non c'era fra voi alcun Dio straniero voi siete miei testimoni oracolo del Signore io sono Dio sempre il medesimo dall'eternità nessuno può sottrarre nulla al mio potere chi può cambiare quanto io faccio vedete che a questo punto si va verso una affermazione sempre sempre più dura secca filosoficamente diciamo più pertinente e corretta di monoteismo non ci si limita più a dire che Israele deve astenersi dalla adorare altri dei si dichiara esplicitamente che di altri dei non ce ne sono e capite che questo è un salto quantico è davvero un passo in avanti formidabile nel percorso teologico di Israele il secondo motivo per cui il secondo Isaia perdonate il gioco di parole è straordinario riguarda il fatto che all'interno di questo testo sono incastonati per così dire quattro piccoli poemi quattro piccoli poemi che sono misteriosi in verità sono testi strani misteriosi affascinanti forse proprio perché misteriosi in cui si parla di un personaggio di cui non si dice nient'altro se non che il servo del Signore questo servo ha delle caratteristiche particolari badate che questo servo è considerato una figura straordinariamente vicina a Dio ma c'è qualcosa che non funziona perché mentre tutta la grande tradizione biblica cominciare dal Salmo 1 dice che i giusti quelli che Dio ama quelli che fanno la volontà di Dio vengono da Dio benedetti e salvati e la punizione l'obbobbio la violenza tocca agli empi ecco che questo servo è disprezzato è uomo dei dolori che ben conosce il patire è rifiutato dagli uomini è uno davanti al quale tanto è disgustoso ci si copre la faccia ci si copre il volto per non vederlo c'è questo paradosso del servo sofferente del servo perfetto ma sofferente e per di più si dà una spiegazione di questa sofferenza si dice esplicitamente che questa sofferenza porta la salvezza porta la salvezza e si dice che il mio giusto servo perdonerà molti si addosserà la loro iniquità io gli darò in premio le moltitudini perché è stato annoverato tra gli empi mentre portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli capite perché questo testo sicuramente è stato usato come lente interpretativa dalle prime comunità cristiane per spiegare lo scandalo della croce vissuta reinterpretata come strumento di salvezza e non più come maledizione e forse questo tema delle moltitudini dei molti del intercedere del portare i peccati del salvare mediante la sofferenza e il sangue è stato forse uno strumento interpretativo usato da Gesù stesso visto che questa teologia o una teologia molto affine in ultima analisi ricorre nelle parole eucaristiche le parole eucaristiche del sangue versato per salvare le moltitudini pare proprio una diretta trasposizione ad applicazione a se stesso del salmo del scusate del canto del servo infine il terzo Isaia terzo Isaia è un profeta che deve affrontare un problema ancora diverso il secondo Isaia annuncia la salvezza la salvezza si verifica gli israeliti sono liberati da Babilonia e arrivano in Giudea in Giudea li aspetta una delusione spaventosa perché la Giudea è ancora devastata in 40 anni è stata lasciata lì a marcire Geusalemme è un cumulo di macerie e quindi si fa molta fatica a ricominciare gran parte delle promesse sembrano completamente svanite e ecco che allora comincia una serie di atteggiamenti abbastanza di disfattismo ed ecco che allora comincia un comportamento che in qualche modo dimentica di nuovo il comportamento morale ed ecco che allora Dio deve richiamare quali sono per così dire i concetti fondamentali i concetti fondamentali su cui cominciare una corretta relazione con Dio si deve praticamente ricominciare da zero si deve ricominciare da zero ed ecco che allora di nuovo si deve ribadire quali sono le priorità la priorità qual è? ricostruire il Tempio? Quando è che le cose cominceranno ad andare bene? Cosa vuole Dio da noi per ricolmarci di benedizioni? Non è il Tempio non è il digiuno quello che interessa Dio e qui c'è una perfetta corrispondenza tra l'inizio e la fine del libro ecco che avete una espressione di questo tipo questo è il giudizio che desidero piegare come un giunco il proprio capo usare come sacco il cenere per letto questo sarà il digiuno? No il digiuno che io voglio è sciogliere le catene inique togliere i legami del gioco rimandare liberi gli oppressi spezzare ogni gioco questo è il digiuno che voglio dividere il pane con l'affamato introdurre in casi miseri senza tetto vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti allora la tua luce sorgerà come l'aurora la tua ferita si rimarginerà presto davanti a te camminerà la tua giustizia la gloria del Signore ti seguirà vedete che allora la strada giusta per ricominciare il percorso con Dio è il comportamento morale corretto verso il prossimo il prendersi cura del prossimo così come c'è una singolare per certi versi corrispondenza tra l'inizio del nostro discorso e la fine del nostro discorso per il semplice fatto che abbiamo messo in luce in apertura il fatto che Dio il fatto che Dio non è né maschio né femmina che Dio è il totalmente altro ed ecco che quasi a ricordarcelo il nostro terzo Isaia ci dà una singolare e affascinante definizione di di Dio e che questo Dio ci viene presentato in forma materna vi ricordate lo scandalo o comunque l'imbarazzo che provocò Papa Luciani a suo tempo quando in una celebre umelia del suo verissimo pontificato ricordò questo concetto guardate che qualunque cosa diciamo di Dio sono metafore allora da un lato possiamo dire smettiamo di raffigurare Dio come madre come padre in qualunque modo ma se è inevitabile per aiutarci a capire l'affetto di Dio vogliamo usare la metafora genitoriale e infatti il Nuovo Testamento stesso ci dice che possiamo chiamare Dio Papà bene per evitare scivoloni su questo delicato questione ricordiamoci che la Bibbia fa anche uso di metafore materne non solo paterne e infatti il terzo Isaia il capitolo 66 usa queste immagini dice io farò scorrere come un fiume la prosperità come un torrente in piena e i bimbi saranno portati in braccio sulle ginocchia li accarezzerò come una madre consola il figlio così vi consolirò e in Gerusalemme sarete consolati vedete che è un Israele deluso un Israele perplesso che deve ricominciare da capo potrà ricominciare da questi due punti saldi individuare nel diremmo noi amore per il prossimo il pilastro della propria religiosità e nel ricordare che la fuori di Dio è forte come la morte direbbe il cantico dei cantici forte come l'affetto di una madre per i suoi bambini vi ringrazio della pazienza e ci fermiamo senti che è una sciocchezza tanto io sono stato promossa per cinque anni di seguito al liceo sui quadri quindi ormai sono rotto che il mio promossa c'era scritto Maria i genitori i miei insegnanti di lunga allora mi sono fatto crescere la barba l'ultimo anno niente promossa anche l'ultimo anno ascoltate non è che abbiamo molto tempo d'altra parte però possiamo certamente usufruire ancora della pazienza del nostro professore se c'è qualche domanda qualche richiesta di spiegazione o anche qualche obiezione perché magari non l'ho capito eccetera eccetera mi chiedevo la ragione per cui la seconda e la terza parte sono stati comunque uniti alla prima parte quindi incluso nell'unico libro di Isaia nonostante temporalmente molto molto in là distaccati e anche come stile come scrittura di stile questa è una grande domanda a cui francamente gli esegeti non sanno rispondere la prima risposta la più stupida è questi due profetti di questi due profetti erano dato perso il nome questa è sempre la cosa più sciocca ma se non va esclusa d'altra parte una cosa non ci deve meravigliare se pensate che per secoli l'Iliè dell'Odissea sono state attribuite allo stesso poeta mentre si capisce lontano o meglio la lettura attenta ci permette subito di capire che sono due stili due mondi culturalmente diversi c'è un secolo e mezzo di distanza anche lì quindi una prima possibilità è che siamo di fronte a due poeti due profetti di cui era andato perso l'identità e allora si sono individuati dei punti di contatto con un altro profeta al cui libro in verità erano già state fatte delle aggiunte perché il libro di Isaia presenta numerosi elementi aggiuntivi oltre agli oracoli del profeta stesso dire esattamente con che logica a noi sfugge perché ad esempio a noi sfugge anche la logica con cui un redattore a un certo punto ha messo nell'ordine che leggiamo i vari oracoli di Isaia ma anche di Geremia e di tanti gli altri profeti per loro una logica c'era poteva essere una parola chiave che a noi in traduzione sfugge e che non è poi chiarissima neanche letta in ebraico per cui onestamente non riusciamo a dare una risposta convincente perché i temi sono davvero molto diversi e quindi lo stile è molto diverso quindi la risposta non c'è sostanzialmente ascolta io sono stato colpito la ringrazio per tutto il resto ma dall'immagine del microfono è una immagine che fa capire immediatamente alcune cose però se permette è anche molto problematica certo per il fatto che il rischio è di ipotizzare che c'è una perfetta coincidenza tra quello che dice Dio e quello che dice il profeta ora questo rischia però di farci cadere nel fondamentalismo perché in realtà certamente quello che dice il profeta è la parola di Dio però il profeta l'ha interiorizzata l'ha rielaborata l'ha in qualche maniera diciamo così pur mantenendo il rispetto della parola di Dio prima di tutto ho fatto fatica a capire cosa Dio gli voleva dire perché non penso che gli parlasse nelle orecchie quindi percepire il Dio che parla anche per lui ma poi soprattutto ovviamente gli ha messo del suo gli ha messo la sua parola la sua cultura il suo stile quindi questo mantenere la continuità nella differenza forse è positivo questo è fondamentale attenzione perché il pericolo che sottolinea il nostro amico è cruciale è fondamentale soprattutto ci aiuta subito a capire alcuni problemi che incontra tuttora il mondo islamico perché sapete che la parola Corano vuol dire la lettera recitazione cioè l'arcangelo dice qualcosa a Muhammad e Muhammad lo ripete dopodiché viene scritto quindi dal punto di vista di un musulmano non necessariamente terrorista per carità ma semplicemente molto ligio abbiamo questa equivalenza assoluta tra il testo e la parola di Dio d'altra parte lo stesso discorso vale anche per interi filoni della tradizione ebraica per cui la Torah in particolare è già scritta in cielo è semplicemente quella che noi abbiamo una copia di un libro celeste è la parola di Dio quindi ogni religione rischia di cadere in questo tipo di approccio pericolosissimo nello stesso tempo credo che da questo punto di vista ci siano due percorsi che possono essere affrontati che possono venirci in aiuto il primo percorso è un percorso laico il secondo percorso è un percorso specificamente cristiano partiamo dal secondo guardate che da un certo punto di vista è relativamente più facile per i cristiani non cadere in questo approccio per il semplice fatto che chi creda davvero alla doppia natura autentica di Gesù sa che Gesù è uomo e Dio Dio ma anche uomo e perdonatemi una battuta una espressione polemica secondo me ci vuole uno che dica che non sa che Gesù è ebreo o è un deficiente o è un ignorante non capisco che Vangelo gli è stato predicato francamente questo non lo capisco per me è di una gravità assoluta quello che è successo la settimana scorsa che una persona dica che Gesù era ebreo non lo sapevo per me è Dio va bene allora sei un monofisita allora sei una persona che non sei certamente un cattolico come dici di essere o perlomeno torna a scuola di catechesi quindi proprio per questo motivo noi abbiamo attenzione la consapevolezza che la parola di Dio si è fatta carne con tutto quello che questo vuol dire eccetto il peccato naturalmente ma questo lo do per scontato proprio per questo allora credo che in qualche modo la chiesa sia partita in vantaggio per il semplice fatto ad esempio che si è trovata con scusate l'espressione Barbara che sto per usare cinque Vangeli Paolo perché a suo modo è un annunciatore del Vangelo e quattro racconti che presentano la storia terrena di Gesù di Nazareth quindi abbiamo subito fin dall'inizio una polifonia formidabile che inevitabilmente obbliga in qualche modo ad ancorare il messaggio di Gesù a determinati anche contesti storici e conseguentemente se il cristianesimo vuole perché nel mondo protestante americano ci sono dei fior di fondamentalisti più rigidi di quelli che pensiamo ecco che abbiamo una maggiore diciamo opportunità o una minore possibilità di cadere nel fondamentalismo nello stesso tempo abbiamo poi invece credo un'ulteriore opportunità che è lo studio storico critico cioè lo studio storico critico che posso fare da laico che posso fare da ebreo che posso fare anche da musulmano soprattutto in Francia gli istituti più avvertiti dicono va bene qui a parlare è Maometto che sta parlando a Medina che sta parlando alla Mecca che sta parlando in un determinato contesto che ha questo problema da risolvere quindi si mette l'accento sul fatto che attenzione il profeta può avere questa soggettiva convinzione che si chiama Maometto che si chiama Isaia ma l'interprete è consapevole del fatto che Isaia opera in quel contesto giudaico Maometto opera in quel contesto arabo Gesù opera o Marco opera in quel particolare contesto perché dopo entra in ballo oltretutto nel nostro caso il peso che l'ambiente ha avuto nel condizionare il discorso di Matteo la chiesa di Matteo aveva dei problemi la chiesa di Giovanni ne ha degli altri la chiesa di Marco ne ha degli altri ancora ed è a questi che che l'evangelista risponde quindi attenzione perché il testo sacro bisogna amarlo ma bisogna anche interpretarlo in maniera attenta senza cadere per così dire in eccessi di alcun tipo in particolare credo che una delle avvertenze per l'uso più importante ci venga proprio dal Nuovo Testamento laddove il fariseo dialoga con Gesù e dice maestro ma qual è il più importante dei comandamenti cioè c'è una specie di universo ci sono tantissime stelle ma da dove dobbiamo cominciare a puntare idealmente il nostro telescopio cioè qual è ciò che va messo in centro e ciò che può finire in periferia perché guardate che è importantissimo quello prima ancora di ogni alta operazione propedeutica Gesù risponde amerai il Signore Dio tuo e amerai il prossimo come te stesso vedete che in perfetta come dire prosecuzione rispetto alla tradizione profetica non ci mette il Tempio non ci mette il Tempio infatti in Marco il nostro dottore della legge che in fondo la pensa come Gesù un minuto vi faccio anche un altro esempio sempre hai detto bene maestro egli è l'unico non viene almarlo con tutto il cuore il valpiù di tutti gli olocausti e i sacrifici vedete che è lui che fa il salto ulteriore è questo maestro della legge che dice bravo sono d'accordo con te che il primo comando il primo elemento della nostra fede non è il Tempio perché se è come se fosse il Tempio badate che avrebbero perfettamente ragione un esempio che facevo già oggi pomeriggio il levita o il sacerdote quando incontrano la persona che è incappata nel brigante a lasciarla lì perché se si accorgono che è morto ma l'han toccato non possono più procedere al culto nel Tempio per loro è più importante quello allora gli esempi che facevo questa mattina oggi pomeriggio se io prendo il libro di Giosuè come fulcro e badate che il discorso vale anche per tanti cristiani che si ritenevano la reincarnazione del popolo di Dio e hanno massacrato gli indiani ad esempio erano protestanti va bene ma questo non ci non ci esime come cristiani dalle responsabilità se io prendo questi come esempi se io prendo come fulcro chi non è con me contro di me capite che partendo da questi criteri costruiscono modello di fede che è micidiale né più né meno di quella di un musulmano che invece di prendere la misericordia di Dio come fulcro prende la guerra santa allora questo vale per ogni interpretazione religiosa tra l'altro tenete presente che proprio questo testo ci aiuta a capire il discorso di 5 minuti fa se voi prendete questo brano in Marco vedete che c'è un dottore della legge uno scriva che si avvicina e dice qual è il primo di tutti i comandamenti Gesù gli risponde questo gli stringe la mano e se ne vanno con Gesù che gli dice non sei lontano dal regno di Dio Marco 65 dell'Eva Volgare dopo Cristo passano gli anni passano gli anni Matteo e Luca scrivono in un contesto in cui ormai i rapporti con la comunità giudaica si sono fatti più tesi e non vanno più d'accordo per cui in Matteo si avanzò un dottore della legge per metterlo alla prova subito l'intenzione è malefica è negativa e poi manca l'ultima parte e come si fa a presentare il Signore che dà la mano a uno di quelli che adesso è nostro nemico via questa parte l'attivo via e vedete che se io faccio da laico il mio mestiere è fare l'insegnante io faccio lo storico ma se da storico riconosco questa omissione mi pongo delle domande che poi possono sollecitare anche la mia coscienza di credente e trasferirle in riflessione teologica che va nella direzione esatta delle preoccupazioni serissime che diceva il nostro parco ecco adesso è giunto il momento di andare a dormire permettete un piccolo avviso il prossimo appuntamento era stato fissato il lunedì 13 gennaio mentre invece viene spostato il giorno dopo martedì 14 martedì 14 gennaio e il tema i tempi di Giovanni Battista l'ultimo profeta dell'antico testamento e avremo la gioia e vi era ancora il professor Feltri a cui diciamo ancora una volta grazie e a cui auguriamo un buon viaggio di ritorno mi scuso di questo disguido ma è legato al fatto che gli scottini quindi sono ancora un servo della gleba e quindi non sono un uomo libero grazie a tutti grazie a tutti